il salmone in crosta di patate la ricetta che fa per voi ho sciacquato sotto l'acqua corrente 800 grammi di salmone o tamponato con della carta da cucina a rotolo in questo modo poi trasferisco all'interno di una teglia affoderata con carta da forno il roro la base con poco olio e un ciuffo di prezzemolo tritato finemente rispongo il salmone nella teglia insaporisco con sale e pepe quanto basta unisco dell'aio granulare a sentimento e prezzemolo tritato finemente e ora pulisco due patate taglia fettine sottili con la mandolina copre il salmone sovrapponendo le fette di patate tra di loro insaporisco con sale e pepe quanto basta aggiungo dell'altro prezzemolo tritato finemente termino e dorando con poco olio lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 20 minuti completando la cottura con altri 5 minuti sotto al grill fino a quando le patate avranno sviluppato una bella crosticina dorata ed ecco a voi carissimi amici il salmone in crosta di patate è un piatto succulente e croccante si tratta di un piatto molto semplice da cucinare gustoso da mangiare le patate legano alla perfezione con il salmone proprio per questa caratteristica lo rendo un piatto piacevole da mangiare anche per chi non ama la follia il pesce la via